È stata presentata al pubblico e alla stampa l'opera Il Partigiano di Piero Martina. Il quadro, olio su tela, 180x80 cm, datato 1961, è stato donato dalla famiglia al Consiglio regionale ed è esposto nell'atrio di Palazzo Lascaris. All'incontro erano presenti anche le due figlie dell'autore, Anna e Antonella. Una rassegna dedicata all'artista, nato a Torino il 30 dicembre 1912, è visitabile all'archivio di Stato fino a fine gennaio. Quest'opera di Martina che la famiglia ha donato al Consiglio regionale del Piemonte è esposta nell'ingresso di Palazzo Lascaris, trasformato, a dimostrazione che l'arte trasforma anche gli edifici e dà un segno chiaro verso la democrazia. L'opera si intitola Il Partigiano e riunisce la storia del nostro paese in un momento molto particolare.